Si svolgerà questa sera in piazza Duomo alle ore 20 il sit-in di protesta organizzato da tifosi Granata. Il grosso della tifoseria si radunerà ai piedi del palazzo municipale per manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti sia dei politici sia del signor Salvatore Palella. Quest'ultimo ci scuserà ma pur sforzandoci non riusciamo a chiamarlo presidente, reo di aver prima illuso e poi offeso un'intera città con promesse cervellotiche ed assolutamente fuori luogo. Facendo un piccolo flashback potremmo tornare a quella conferenza stampa del 19 febbraio, dato in cui il suddetto ha confermato pubblicamente il proprio impegno, praticandosi in una vera e propria invettiva contro tutti i suoi detrattori. E' proprio da questo particolare che vorremmo partire. Caro signor Palella, perché scatenare un tale polverone? Perché dare vita ad un vero e proprio casus belli? In tutto questo non riusciamo a trovare alcun nesso logico che giustifichi le tante parole dette, scritte ed a tratti anche urlate da parte di un profeta in patria mancato. Sono stati mesi d'agonia per la Cireale Calcio e tutti i suoi appassionati, sempre presenti al capezzale della più importante realtà calcistica cittadina. Parafrasando una frase presente nel comunicato diramato dei gruppi organizzati, è d'obbligo unirsi allo slogan Cireale non muore mai, consapevoli che non sarà l'ennesima bolla di sapone ad allontanare la Cireale Calcio 1946 della propria gente. In merito a questa situazione è intervenuto anche il sindaco Carozzo che, in un comunicato stampa, ha sottolineato al momento l'assenza di condizioni minime per rinnovare la convenzione annuale dello stadio Duparello, il signor Salvatore Palella. Un ipotetico sfratto legittimo che anche i tifosi hanno richiesto a gran voce all'unisono, in una sorta di stringiamoci a corte di mameliana memoria. Il calcio, inteso come espressione sociale, può e deve essere un mezzo di riscatto importante per una città che, nonostante tutto, ha sempre difeso con infinita dignità i simboli della propria storia sportiva e non. In virtù di ciò invitiamo tutti gli accesi, tifosi e non, a partecipare, rinnovando l'appuntamento alle ore 20 di questa sera in Piazza Duomo.